E' tutto pieno di porno! Perché fichi il naso nella mia roba privata? Roba privata è una sega! Johnny, era tutto aperto! Ci saranno almeno mille video qui! Beh, avevo intenzione di eliminarne alcune! Porca, tra tutte le categorie! Anilingus orario, anilingus anti-orario! A volte vuoi vedere la lingua girare nell'altro senso! Tu sei malato? Guarda che roba! Pupo e con l'uccello! Oh mio Dio, oh mio Dio, sono malato! Va bene, aiutami! Non ci sono pupo e con l'uccello! Sono maschi con le tette! Che saliamo, sono contento che mi hai scoperto! Ma volevo essere scoperto! Johnny, stammi a sentire! E' un campanello d'allarme, ok? Devi ricominciare a uscire e conoscere una donna perché stai andando fuori controllo!